Nel pomeriggio di ieri nelle acque della litorania di Torre del Greco si erano improvvisamente perse le tracce di un uomo probabilmente trascinato a largo dalla corrente. Immediato l'allarme è lanciato da alcuni familiari a cui prontamente ha risposto uno degli assistenti bagnanti presenti in spiaggia che si è subito lanciato nella ricerca grazie anche all'ausilio della guardia costiera. Ieri verso le 18.30 mi trovavo giù alla litorania al ristorante Settebello dove io lavoro come assistente bagnante, prevettato e all'improvviso una signora mi ha dato un allarme che il ragazzo non si trovava più. Allora subito mi sono in opera di Pertino e sono andato a vedere il ragazzo che l'ho trovato dietro gli scoggi. Però non l'ho trovato e sono andato un'altra volta sulla spiaggia per chiamare la guardia costiera. Dopo ho chiamato la guardia costiera sono ritornato un'altra volta nell'acqua con il pattino per vedere se si è trovato il ragazzo. Dopo tanto l'ho trovato e sono andato a prenderlo sul pattino perché il ragazzo diciamo ce la faceva e non ce la faceva più a remare. Dove si trovava questo ragazzo? Quasi vicino alla casa russa di Tote Greco e l'ho fatto salire sul pattino e l'ho portato a riva dal Settebello vicino alla sua ragazza che lo stava aspettando con ansia. E' comunque pericoloso il mare diciamo facciamo un appello ai bagnanti. Si il mare è troppo è molto pericoloso. Poi ieri sera stava corrente e vento che era davvero pericoloso. Anche per me è stato pericoloso ieri.